Salve a tutti amici di Spazio e bentornati sul nostro canale YouTube. Abbiamo acquistato il nuovo Apple Watch Serie 6 presentato lo scorso martedì durante la presentazione Time Flies di Apple, però prima di mostrarvelo come al solito vi invito a lasciare un bel mi piace a questo video, di iscrivervi al canale se non l'avete già fatto, ricordando cosa molto importante di attivare le notifiche facendo un clic sull'icona della campanellina. Nel video riassunto pubblicato a fine evento abbiamo già parlato delle caratteristiche e delle funzioni introdotte da questo modello, cosa che andremo a vedere naturalmente dal vivo fra un attimo. Tutto sommato il Serie 6 non si allontana molto dal Serie 5, cosa che notiamo subito anche nel packaging, che è praticamente lo stesso, forse solamente leggermente più sottile per via dell'assenza dell'alimentatore USB. Naturalmente si tratta della stessa assenza che riscontreremo anche con i nuovi iPhone 12 a ottobre, perché Apple a quanto pare ha deciso di intraprendere definitivamente quella via che si rispecchia fin da subito anche sugli Apple Watch nel Serie 6 come nel nuovo SE. Come possiamo notare infatti in confezione abbiamo esclusivamente il cavetto con il classico supporto magnetico per la ricarica e induzione e l'Apple Watch. Per quanto riguarda invece il cinturino lo troviamo come al solito all'interno di un pacchetto dedicato, naturalmente il cinturino è coordinato con la colorazione scelta per il dispositivo, quindi nel nostro caso sarà bianco perché purtroppo non siamo riusciti a prendere né la colorazione blu né quella rossa a causa della scarsa disponibilità al lancio. In questo caso abbiamo comprato il modello da 44 mm nella colorazione argento, naturalmente versione sport GPS, lo notiamo anche dall'assenza del bordino rosso sulla corona digitale, diciamo che in totale abbiamo speso 469 euro, perché è il prezzo di partenza per i 44 mm, mentre per i 40 naturalmente in versione GPS si parte semplicemente da 439 euro. Come potete vedere a livello di design non cambia nulla rispetto al modello precedente, quindi al Serie 5, ma se vogliamo anche rispetto al Serie 4, alla fine fatta eccezione del retro dove adesso abbiamo i nuovi sensori con i led rossi inediti che hanno una disposizione differente e permettono essenzialmente di monitorare l'ossigenazione del sangue, che è poi appunto una delle novità introdotte da questo modello e che vedremo fra un attimo. Oltre alla nuova Watch Face con la Mimoji, che è una novità introdotta da Watch S7, vi mostro subito la peculiarità di cui parlavamo un attimo fa, che rende immediatamente diverso quindi il dispositivo dei precedenti, ovvero la funzione che permette di monitorare l'ossigenazione del sangue. All'avvio l'applicazione dà consigli al fine di ottenere un rilevamento corretto dei livelli di ossigeno, come ad esempio quello di non tenere l'Apple Watch troppo vicino al polso ma un po' più in alto, di tenere il cinturino ben stretto ma allo stesso tempo comunque comodo, e di tenere l'Apple Watch rivolto verso l'alto meglio se con il braccio poggiato su un tavolo. Fatte queste premesse, basterà fare un tap su Inizia per avviare il rilevamento per cui saranno necessari 15 secondi, di cui troviamo comunque il conto alla rovescia sullo schermo insieme a questa animazione che con i colori celeste e rosso ricorda proprio l'ossigeno e il sangue. Oltre alla misurazione dei livelli di ossigeno nel sangue e novità come l'altimetro, possiamo sfruttare anche sul Serie 6 tutte le funzioni dei modelli precedenti, come ad esempio l'ECG, quindi l'elettrocardiogramma, e quelle introdotte da WatchOS 7 come il rilevamento automatico del lavaggio delle mani e tutte le numerose nuove WatchFace. Ricordo per quanto riguarda WatchOS 7 che è stato rilasciato come iOS 14, iPadOS 14 e TVOS 14 lo scorso martedì per tutti e che qui sopra naturalmente lo troviamo già preinstallato. Prima di chiudere vi ricordo di lasciare un bel mi piace a questo video, di iscrivervi al canale se non l'avete già fatto, ricordando di attivare le notifiche facendo un clic sull'icona della campanellina e seguirci su tutti i nostri social. Io sono Rocco Zaccaro e vi do appuntamento al prossimo video sempre qui su Espazio. Grazie a tutti.